Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Dopo i lavori a Piazza Flavio Biondo prosegue la riqualificazione della stazione di Trastevere. Entro il giubileo lo snodo ferroviario sarà accessibile anche dal lato di Viale Marconi con un aumento stimato del bacino pedonale della stazione di quasi il 50%. Intanto con l'intervento a Piazza Flavio Biondo progettato da Roma Servizi per la mobilità sono stati razionalizzati gli spazi e migliorati accessibilità e sicurezza pedonale. Tutto con l'obiettivo di fare della stazione di Trastevere un vero e proprio centro della mobilità pubblica e sostenibile cittadina.